tanto così adesso sai che parlo prima io e dobbiamo iniziare allora sì siamo live un momento verifichiamo ci siamo allora buonasera e ci scusiamo per il ritardo abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico grazie per essere qui al nostro Darwin Day di iRicerca iRicerca come potete vedere diciamo dal canale youtube in cui siete a una una comunità di ricercatori a l'associazione italiana ricercatori l'associazione internazionale ricercatori italiani in cui siamo ricercatori italiani da tutto il mondo e abbiamo io sono Michela Leonardi faccio parte della della sezione locale di Cambridge del Regno Unito e sono una paleobiologa all'università di Cambridge e abbiamo organizzato il Darwin Day come per festeggiare il 12 di febbraio in tutto il mondo si festeggia la ricorrenza del compleanno di Charles Darwin che è nato nel 1809 e i biologi evolutivi di tutto il mondo festeggiano questa ricorrenza facendo dei delle presentazioni parlando dell'inf del lavoro di Darwin all'epoca della sua influenza sul mondo attuale e noi abbiamo deciso di farlo chiamando a parlare Marco Ferraguti e Chiara Ceci sulla prima edizione italiana dell'origine delle specie e ci racconteranno loro quali sono le particolarità perché è così importante perché è così speciale Marco e Chiara Marco Ferraguti è stato professore di di biologia evolutiva all'università di Milano e hanno e Chiara la Ceci invece è naturalista e comunicatrice della scienza insieme hanno curato questo libro edito da Zanichelli l'anno scorso che è la copia anastatica della prima edizione italiana dell'origine delle specie e appunto ci racconteranno perché è così importante nel 2019 in questo caso pubblicare questo libro che è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel 1864 quali sono e poi ci racconteranno anche un po' di storie buffe dietro alla prima edizione italiana ora lascio la parola a Chiara Ceci e vi ricordo che se volete fare delle domande vi prego di scriverle nei commenti noi leggeremo tutte alla fine della della delle due presentazioni e a quel punto le porremo ai nostri ai nostri oratori e che vi risponderanno e lascio la parola a Chiara grazie grazie Michele allora inizio a condividere lo schermo così vedete la presentazione allora buonasera a tutti grazie a ai ricerca per l'invito è il secondo anno che ho la fortuna di eh parlare a Darwin Day del del chapter di Cambridge di aere ricerca e infatti eh eh l'anno scorso eh durante quel talk eh al Darwin College eh in centro Cambridge è stata l'ultima volta che sono stata in centro a Cambridge io abito in un paesino un po' fuori quindi per via della pandemia ehm c'è un cerchio che si chiude ma sogniamo ancora in lockdown eh qua quindi non è cambiato molto ehm allora questa sera eh siamo stati invitati io e Marco a raccontarvi della storia della prima eh edizione italiana del dell'origine delle specie la prima traduzione italiana e il motivo per cui io e Marco ci siamo iniziati a interessare ci siamo occupati di di quello che vi racconteremo oggi è perché nel 2018 eh circa Zanichelli eh ci chiese eh se ehm ci ci interessava ehm lavorare con loro per scrivere delle nuove prefazioni a una nuova eh ristampa una stampa anastatica di quella eh prima eh edizione eh ovviamente noi ci siamo subito interessati perché era un'opportunità per approfondire eh dei temi un po' diversi e scrivere qualcosa di un po' nuovo su questo libro eh che appunto ehm sarebbe questo libro questa ristampa sarebbe stato pubblicato da Zanichelli centosessant'anni dopo l'uscita dell'originale eh in inglese. Nelle nostre due prefazioni io e Marco ci siamo eh divisi un po' eh dei temi e Marco nella sua parte eh racconta la storia della traduzione italiana dell'editore e delle delle pubblicazioni che ehm questa ma è anche successiva insomma dell'evoluzionismo in Italia mentre eh io mi soffermo sulla parte degli esperimenti botanici di Darwin e come ehm questo quest'uomo nel giardino di Casasueri sia riuscito a fare osservazioni ehm normali ma allo stesso tempo eh rivoluzionari. Quando Marco eh però eh stava scrivendo la sua parte come mentre io scrivevo la mia mi interfacciavo con lui ci siamo fatti una domanda Marco eh mi ricordo dicevamo ma 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 Darwin una copia di questa prima traduzione italiana ce l'aveva? Qualcuno gliela avrà mandata? Nella sua biblioteca esiste una copia di questo libro in italiano. Nessuno di noi due ehm si era mai imbattuto in quel in quel volume e e quindi abbiamo iniziato a chiedere. Abbiamo chiesto al negli archivi qui a Cambridge dove c'è la maggior parte delle delle cose di Darwin e poi a Down House che è la casa dove Darwin ha abitato per 40 anni fino alla sua morte dove che adesso è un museo e dove c'è anche una buona parte eh di collezione dei suoi eh scritti e alcuni dei suoi libri. Nessuno però eh sapeva niente di questo libro una ricerca iniziale insomma abbiamo chiesto alle fonti principali nessuno sapeva eh nulla. Non insomma siamo venuti via da questa prima questa prima parte della ricerca con l'idea che no Darwin non aveva una copia ehm della prima traduzione italiana del suo libro. Un po' ci stupiva perché ce ne sono tantissime nel catalogo ma non non c'era questo libro. E allora niente abbiamo continuato a scrivere le nostre prefazioni fino a che pochi giorni eh prima di andare in stampa con questa questo libro questa ristampa anastatica ricevo una mail dalla curatrice di Down House che mi dice l'ho trovato eh ho trovato il libro che cercavi però ce l'hanno sbagliato cioè era catalogato sotto l'hanno sbagliato. Allora eh io Marco abbiamo contattato l'editore di Zanicali dicendo fermate la stampa perché vogliamo aggiungere qualcosa dateci qualche giorno che investighiamo. Allora io mi sono organizzata io ovviamente ero ehm più facilitata perché vivendo qua vicino ho semplicemente preso e sono andata giù a Down House e Marco non è potuto venire con me perché Marco appunto sta a Milano ehm allora sono andata a vedere questo libro famoso che finalmente avevamo trovato ed era nascosto in bella vista. Allora questa è una foto che vedete sopra è la un'immagine dello studio eh di Darwin eh a Down House appunto a casa sua. Vedete c'è ehm c'è il camino con a fianco la sedia dove Darwin eh si sedeva a scrivere sulla dall'altra parte invece vedete vicino alla cesta del cane il cane polli che si accovacciava lì c'è un'altra degli scaffali ehm con dei libri. Al retro di questa foto lo vedete un po' riflesso nella specchio lì c'è tutta una parete di libri quindi io nell'ambiamento ho detto mi ha detto che l'ha trovato sarà lì in quel muro invece no era proprio lì in quello scaffale lì a fianco al al cestino del del cane lì in basso ci sono tanti li vedete dei libri col dorso rosso vedete nella foto in basso la curatrice che appunto va a prelevarlo e dall'altra parte vedete il libro che dice l'origine delle specie Darwin 1864 con questa eh copertina rilegata rossa quindi c'è scritto 1864 quando quindi lei me lo poi siamo andati in un'altra stanza coi guanti e tutto me l'ha fatto vedere ehm mi sono ehm mi sono chiesta ma in che senso ce l'hanno sbagliato perché qui c'è scritto 1864 e allora lì abbiamo iniziato a trovare una serie di incongruenze quando si apre alla prima pagina quello che si apre la copertina quello che si trova è questa pagina che dove dice Carlo Darwin sull'origine delle specie per elezione naturale che era il titolo originario della prima traduzione italiana e poi in basso vedete c'è scritto 1865 io non sapevo nulla di un'edizione del 1865 e soprattutto vedete che oltre a Modena Nicola Zanichelli al lato c'è un torino fratelli bocca di brai mai conosciuti da da un'associazione a questa pubblicazione e quindi qui abbiamo iniziato a chiederci come mai cos'è questa questa questo foglio questa pagina ed è per questo che era era catalogato male non l'avevamo trovato perché noi lo cercavamo sotto 1864 che è la data ufficiale della prima edizione italiana infatti girando pagina ancora quello che si vede è il frontespizio che siamo abituati a vedere e che c'è anche nel nostro libro nella nostra ristampa anastatica ovvero con la data 1864 in basso e Modena tipi di Nicola Zanichelli e soci come unico stampatore editore. Quello che vedete a fronte con l'altra pagina è l'ex libris del figlio di Darwin Francis che appunto ha ereditato tutti i libri dopo la morte del padre quindi tanti di questi della libreria nella libreria scientifica di Darwin tanti libri hanno questo ex libri del figlio però era una copia che era stata mandata a Darwin era appartenuta a Darwin quando lui era in vita insomma qui quindi ci siamo ci siamo iniziati a fare una serie di domande. Allora adesso in questa in queste due foto a fianco vedete le differenze nella pagina che nessuno di noi aveva mai visto prima del 1865 oltre a quello che vi ho già fatto notare la presenza di questi librai fratelli Bob Bocca di Torino c'è anche un'altra differenza il nome del primo traduttore è Gio Canestrini invece di Gio Canestrini un'altra. Vedete poi c'è questo Ghirigoro ai lati che inquadra il tutto mentre nell'altro non c'è quindi effettivamente sono delle pagine diverse quindi ci si capisce che chiunque ha catalogato i libri a Down House ha fatto quell'errore perché ha visto 1865 forse un errore non è perché ancora questo libro si e noi lo sappiamo che del 64 ma qui qualcosa deve essere successo. Allora a questo punto noi non è che eravamo contenti perché qui ci sono ci sono aperte una serie di domande non è stata una risposta è stata all'inizio di una di una serie di ricerche. Allora abbiamo ci siamo chiesti ma le altre copie della prima edizione italiana della prima traduzione italiana dell'origine delle specie. Come sono? Perché io con quel numero lì 65 io non ne ho mai viste io non ne ho viste tante nella mia vita però non l'avevo mai vista abbiamo cercato non se ne trovava notizia. Allora abbiamo fatto la cosa che più ci sembrava aver senso cioè abbiamo scritto a tutte le biblioteche e tutte le persone che conoscevamo che da catalogo o che appunto i privati che conoscevamo che posseggono una una copia della prima edizione italiana. Quindi tutti questi poveri bibliotecari nelle università archivi italiani si sono visti arrivare la ricerca da una richiesta di ricerca da parte nostra riguardo a questo libro è sicuramente prezioso ma anche probabilmente infognato da qualche parte nei loro archivi se per piacere potevano mandarci una foto della prima pagina eravamo molto specifici noi non volevamo sapere nient'altro volevamo avere l'immagine volevamo sapere se avevano quella pagina del 65 o solo quella del 64 o chissà che. Allora è stato fantastico abbiamo ricevuto un sacco di risposte è stato veramente incredibile un sacco di persone che ci hanno mandato anche la storia del del libro che alcune scuole e dei collegi delle librerie di università e ovviamente l'archivio zanichelli ne aveva una e poi alcuni conoscenti che nostri conoscenti amici che ci hanno mandato le foto delle loro copie più o meno una più di 20 22 mi sembra che siamo siamo riusciti a raccogliere poi marco ha contattato altri personaggi che la stavano vendendo e ha trovato altre foto di altre edizioni diciamo che guardando a tutto il campione che abbiamo raccolto noi che siamo zoologi e io che ho studiato con marco ho imparato a classificare le cose abbiamo deciso di classificare gli esemplari per quattro tipi allora adesso arrivo il primo tipo di esemplare che c'era di cui in realtà noi abbiamo trovato solo un esemplare è quello che è stato il primo del primo vero forma stampata della di una traduzione dell'origine delle specie e sono 55 pagine è un fascicoletto questo della università di firenze è un fascicoletto che contiene la traduzione dei primi tre capitoli sono solo i primi tre capitoli e vedete che sul retro di questo fascicoletto non è rilegato c'è una specie di punto di carta un po più più spessa ma non è non è una rilegatura vera ci sono delle condizioni di associazione ovvero l'editore zanichelli aveva si era impegnato a tradurre e stampare i primi tre capitoli ma adesso chiedeva a chiunque fosse interessato di ricevere il resto di associarsi cioè dice c'è il prezzo di mandare i soldi e il secondo volume sarebbe stato mandato a casa spedito e poi le due parti si potevano unire immagino e rilegare con una rilegatura rigida però questa è la prima la prima parte stampata quindi in italia queste 55 pagine sono la prima traduzione del dell'opera di darwin dicevo che però ci sono altri altri tipi allora il tipo a è appunto questo fascicolo con i primi tre capitoli e la copia che abbiamo visto noi visto il remoto è quella della biblioteca di scienze del polo scientifico dell'università di firenze poi c'è un altro tipo di esemplare che rappresenta appunto l'unione di quelle due di quei due fascicoli il primo fascicolo come quello di firenze però unito c'è anche il secondo c'è anche il secondo e questa è la copia che appunto della casa editrice zanichelli tutte le altre copie che abbiamo visto erano o di tipo c cioè era il libro intero però con solo solo la pagina 1864 vedete però la differenza fra quella pagina e le altre due dove hanno questa specie di sopra coperta di copertina che è di una carta un po diversa e poi c'è quella quegli altri libri che hanno invece anche quella pagina 1865 con la presenza di questi nuovi stampatori dei fratelli bocca e questa è il tipo di e dove dove mettiamo la copia di down house quindi c'è veramente un sacco di domande quasi aprono come 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 si sono come sono evolute e queste copie c sono le copie di senza una pagina oppure c'è stata una ristampa dopo e la ristampa del 64 quando è stata venuta queste sono tutte domande a cui in realtà ancora non abbiamo risposta sono sicura che adesso marco arriverà a arriverà a quelle a quella a provare a porvi altre domande e raccontarvi un po come stiamo cercando di rispondere quindi per concludere la mia parte adesso lascio la parola a marco appunto noi siamo partiti con una semplice domanda ma darwin ce l'aveva una copia di questo libro che noi stiamo cercando di ristampare e alla fine la risposta è sì però da quel sì ci si è aperto un mondo e ci si sono aperte un sacco di domande sulla storia di un libro importantissimo e della prima traduzione è in lingua italiana marco ok grazie chiara buonasera a tutti quando la la casa editrice zanichelli ci ha incaricato di fare questo lavoro io mi sono sentito un po male prima di tutto perché non sono uno storico di formazione ma in secondo luogo perché pensavo ma un libro così importante e caspita si si saprà tutto e andando avanti con il lavoro e parallelamente a quanto è successo a chiara ho scoperto che in realtà non è così ossia si sanno relativamente poche cose non si sanno un sacco di cose importanti e le stesse domande di fronte a cui si sono trovati gli studiosi seri che se ne sono occupate e se ne sono occupati sono quelle di cui di fronte a cui mi sono trovato anch'io e la ragione principale è che non ci sono documenti che riguardano questa prima edizione l'archivio zanichelli praticamente non esiste più o meglio esistono dei resti dell'archivio zanichelli all'archivio ginnasio di bologna ma la dentro non c'è nessuna lettera che riguarda la pubblicazione dell'origine delle specie invece vai avanti chiara la prossima diapositiva ecco invece ci sono due lettere una di charles e una di emma e che riguardano questo argomento e sono curiose tutte e due quella di darwin al suo amico hooker dice c'è un'edizione italiana dell'origine in preparazione questo fa la quinta edizione straniera per una volta l'italia non è il fanalino di coda insomma la quinta edizione straniera non è male e cioè in cinque diversi paesi owen e non aveva ragione nel dire a longmans che il libro sarebbe stato dimenticato in una decina d'anni urrà e questo è bellissimo le lettere di darwin sono meravigliose penso che il vero carattere dell'uomo venga fuori nelle lettere e poi abbiamo una lettera di emma che scrive a murray che l'editore originale di darwin il signor darwin dice che comunica dice mi chiede di dirvi che poiché voi non avete mai esitato a autorizzare una traduzione straniera e lui si è preso la responsabilità di autorizzare la traduzione italiana senza consultarvi e chiede amore di mandare una copia della di quella che poi sarebbe stata tradotta la terza edizione a un certo libraio di londra ecco questo è praticamente tutto quello che noi sappiamo e non ci sono lettere con i traduttori non ci sono lettere dei traduttori fra loro né tantomeno dei traduttori con darwin o di darwin ai traduttori ma c'è un'altra curiosità e che l'editore che vediamo nella prossima diapositiva e nicola zanichelli non si poteva dire un grande editore non era niente di confrontabile a quello che è la zanichelli oggi e nicola zanichelli era un vero self made man che aveva cominciato facendo il garzone da un tipografo poi era passato a fare il garzone in una libreria poi con gran fatica e con l'aiuto di qualcuno aveva rilevato una libreria a modena nel 43 e piano piano era come dire aveva messo da parte un po di soldi finché nel 59 si trasforma da libraio a editore ma nel frattempo si vede nella prossima diapositiva ecco e nicola zanichelli faceva il sovversivo come tutte le persone che che ragionano in uno stato non democratico come era il ducato di modena di quei tempi e lui che cosa faceva riuniva li vedete lassù un'immagine possibile riuniva nel retro della libreria le persone che si che stavano lottando per l'italia unita e soprattutto per liberarsi del duca di modena che non era certo un modello di democrazia al punto che spesso la libreria veniva chiusa e dice il figlio in un ricordo che la libreria viene poi riaperta a furore di popolo quando il duca finalmente viene cacciato trovo deliziosa questa immagine qua nell'angolo che non c'entra niente con la nostra storia questo è carducci che porta a braccetto il vecchio zanichelli che ormai si è trasferito a bologna ed è diventato un famoso editore ma per tornare al nostro punto zanichelli dal 59 perché comincia a diventare un editore nel 59 perché nel 59 il duca se ne va cade il ducato di modena e c'è l'annessione al nascente stato italiano dal 59 al 63 aveva pubblicato 17 libri di argomenti vari ma vi assicuro che definire libri molte delle loro pubblicazioni ci vuole una certa fantasia diciamo le uniche due cose scientifiche sono due manuali scolastici uno di algebra uno di geometria gli altri sono opuscoli e c'è una sola pubblicazione importante che è una raccolta di documenti sulla storia del ducato un altro punto interessante vai avanti sono i due traduttori chi sono i due traduttori a sinistra vedete giovanni canestrini zoologo e a destra leonardo salimbeni ingegnere anche questa non è male e giovanni canestrini zoologo è uno zoologo serio quadrato si è laureato a vienna e lui era trentino e quindi era normale che a quei tempi uno andasse a laurearsi a vienna e udite udite a 26 anni vince una cattedra di zoologia a modena pensate che tempi e li letteralmente si scatena cioè in breve tempo lui diventa il centro della vita naturalistica di tutta la città e svolge ricerca in campi diversissimi che vanno dalla sistematica dei pesci a quella dei ragni allo studio delle terramare e all'antropologia eccetera eccetera leonardo salimbeni invece per quanto ne sappiamo non se ne sa molto appartiene a una nobile famiglia di proprietari terrieri locali è un ingegnere come formazione e comunque nel 1868 c'è quattro anni dopo la pubblicazione di questo libro con una operazione veramente magica diventa professore di scienze naturali in un liceo di modena ma l'altra stranezza veramente interessante è che per quanto noi ne sappiamo canestrini non sa l'inglese perché abbiamo delle prove che non sa l'inglese perché canestrini più avanti nel tempo a partire dal 1868 in poi intrattiene una certa corrispondenza con darwin ci sono delle lettere che canestrini scrive a darwin estute sono rigorosamente in tedesco mi sono sempre immaginato gli accidenti che avrà tirato il povero darwin che col tedesco non se la cavava granché bene e dunque se lui si è sentito in dovere di scrivere in tedesco vuol dire che l'inglese non lo maneggiava tanto bene probabilmente lo sapeva meglio salimbeni allora qual è l'operazione che i due fanno beh cosa fanno prendono in mano la traduzione francese dell'origine delle specie fatte da una certa madame royer ma questa traduzione non era una meraviglia il nostro charles in una sua lettera privata che manda ad asa gray il suo corrispondente americano nel 62 scrive mademoiselle royer che deve essere una delle donne più intelligenti e più strane d'europa è un ardente deista e odia la cristianità e dichiara che la selezione naturale la lotta per la vita potranno spiegare tutta la moralità la natura dell'uomo la politica eccetera eccetera c'entra alcuni curiosi e buoni punti e dice che pubblicherà un libro su ciò che strana produzione sarà per quanto ne sappiamo di darwin un'espressione del genere penso che sia il peggio che potesse dire del lavoro di madame royer i due traduttori nella prefazione si accodano a darwin e scrivono se per avventura quei dotti italiani che non conoscono l'inglese credessero avvalersi della traduzione francese madame royer essi non acquisterebbero certo un'idea precisa inalterata del testo essendo tale traduzione in molti punti erronea e generalmente troppo libera e inesatta che prove abbiamo che i due malgrado questa dichiarazione si sono molto appoggiati sulla edizione francese e nella prossima diapositiva vediamo il caso più clamoroso che io trovo veramente fantastico darwin scrive a proposito dell'espressione selezione naturale nel senso letterale del termine non c'è dubbio che la selezione naturale sia un nome sbagliato ognuno sa che cosa significa ed si implica con queste espressioni metaforiche madame royer ineffabile scrive nel senso letterale del termine non c'è dubbio che il termine di elezione naturale non sia un controsenso cioè un nome sbagliato diventa un controsenso e continua ognuno sa che cosa significano queste espressioni metafisiche i due canestrini e salimbeni cascano nella trappola certamente nel senso letterale della parola l'elezione naturale un controsenso tutti sanno quale significato racchiudono queste espressioni metafisiche un altro punto interessante e curioso spero che lo siate chiesto tutti è perché i due decidono di tradurre selection con elezione e non con selezione qualcuno mi faceva notare che oltretutto elezione è un termine ancora più ambiguo di selezione perché per esempio in italiano uno dice un farmaco di elezione oppure va a votare alle elezioni implica una scelta diretta e cosciente che è esattamente quello che che darwin non voleva e qualcuno su questo punto lo critica vediamo la prossima ecco e allora poi darwin quando scrive la variazione degli animali delle piante allo stato domestico spiega l'espressione selezione naturale per certi versi è sconveniente perché sembra implicare una scelta consapevole ma ciò diviene trascurabile quando se ne prende familiarità nessuno critica i chimici per il fatto di parlare di affinità elettiva per questioni di brevità io parlo talvolta della selezione naturale come di un potere intelligente allo stesso modo in cui gli astronomi dicono che la trazione di gravità governa i movimenti dei pianeti insomma che sia elezione o selezione il termine è comunque aperto alle critiche può essere interessante per chi non lo sappia il fatto che la parola selezione non era ancora presente nel vocabolario italiano entra nel vocabolario italiano con il grande vocabolario di tomaseo e bellini e tomaseo vediamo se riesco a trovarlo non lo trovo e tomaseo critica ferocemente il l'uso del termine selezione ecco qua voce con cui gli scienziati della bestialità e del pantano per negare la libertà umana la affermano consentendola a tutte le cose dicono che l'uomo e ogni cosa si venne creando per selezione da sé dunque forse i due hanno usando la parola elezione che anche quella è un calco dal francese elezione cercano di aggirare questa potenziale critica di di tomaseo ecco e nella prossima diapositiva ecco vedete le reazioni italiane alla pubblicazione dell'origine che come vedete lì non sono molto brillanti le due che vi sto mostrando in questo momento sono le uniche due reazioni possedute quella di destra è una recensione una recensione molto lunga e molto bella scritta dal grande paleontologo omboni e quella di sinistra è poco più che una notizia della pubblicazione del libro che è uscito sul panaro che guarda caso era un giornale di chiara impostazione filo italiana e antiducale che il nostro Zanichelli stampava a Modena dunque queste non sono grandi reazioni alla pubblicazione le grandi reazioni come forse potete immaginare conoscendo un po' il paese come un paese come l'Italia vediamo un po' se la prossima diapositiva ecco vengono quando le persone cominciano a parlare delle implicazioni della teoria dell'evoluzione sull'evoluzione umana a sinistra vedete un famoso libello di Filippo de Filippi pubblicato nel 1865 dunque un anno dopo la pubblicazione dell'origine delle specie notate bene che Darwin nell'origine delle specie praticamente non parla di evoluzione umana c'è solo un passaggio di una riga luce si farà sull'origine dell'uomo e tutto quello che Darwin dice sull'evoluzione umana ma il 90 per cento e forse più del dibattito pubblico successivo alla pubblicazione dell'origine delle specie in Italia è centrato sull'evoluzione umana vedete qua a destra l'uomo e la scimmia lettere 10 dell'ineffabile Niccolò Tomaseo che porta come sottotitolo con un discorso sugli urli bestiali datici per origine delle lingue proprio a Tomaseo Darwin non andava giù cosa fanno i protagonisti della nostra storia i tre protagonisti della nostra storia dopo la pubblicazione dell'origine forse nella prossima diapositiva si vede qualcosa ecco cominciamo con Zanichelli Zanichelli dopo la pubblicazione dell'origine ahimè abbandona un pochino il fronte evoluzionista e vedete pubblica questo libro del di Antonio Bianconi che era un naturalista e paleontologo che fa delle critiche di versante scientifico devo dire nel complesso abbastanza calzanti a Darwin ma insomma era un libro ferocemente anti darwiniana vedete la teoria darwiniana e la creazione detta indipendente eccetera e poi un opuscolo di questo signore dall'aria un po sorniona devo dire che era un medico che poi divenne rettore dell'università di Modena e scrisse pubblicato da Zanichelli sulla divina origine dell'umanità e sulla supposta derivazione dell'uomo dalla scimmia naturalmente arrabbiatissimo contro ogni teoria dell'evoluzione umana ma nel frattempo questo per quanto riguarda diciamo il dibattito pubblico ecco sui mass media se così si possono chiamare nel frattempo però l'evoluzionismo pian piano nelle università italiane si faceva a strada per opera soprattutto di tre personaggi uno il famoso antropologo Mantegazza a Firenze e l'altro Lessona a Torino che divenne anche rettore dell'università di Lessona e naturalmente il nostro Canestrini che si sposta da Modena a Padova dove poi resterà tutta la vita e continuerà a lavorare come un matto anche sul piano politico e che era un classico rappresentante di quel positivismo di seconda metà ottocento rabbiosissimo contro ogni forma di religione materialista fino al budello e che traduce gli altri libri di Darwin in parte lui e in parte Lessona pensate fra il 64 e il 90 pubblicano tutti i 13 libri di Darwin in italiano ed è veramente fantastico che alcuni di questi libri non hanno una traduzione moderna. La posizione di Canestrini e con questo credo che posso finire la posizione di Canestrini ve la faccio vedere per finire con un sorriso ecco qua e a un certo punto il comune di Trento decise di fare un monumento a Canestrini e ci fu un dibattito vedete con intervento di figure politiche di primo piano come Cesare Battisti il giovane Alcide De Gasperi che in maniera provocatoria proponeva di scrivere sotto il busto a Giovanni Canestrini studiò e faticò molto ma sbagliò a strada riposa in pace questo è come oggi come oggi si usa glorificare De Gasperi ecco qui abbiamo un elemento in più per valutarlo grazie mille allora io ringrazio Marco per queste questa questi racconti molto interessanti e ci sono state un paio di domande su YouTube eh allora la la prima domanda Marco ha già risposto perché ehm ci chiedevano come mai sulla copertina sul frontespizio si vede il termine elezione al al posto di selezione e ne abbiamo insomma ne abbiamo parlato eh lungamente e poi ci chiedo ehm se ci sono state o se sapete se ci sono state delle ehm delle edizioni illegali se o o comunque se Darwin sapeva di tutte le edizioni straniere della della sua opera allora questa in effetti sì Darwin sapeva naturalmente ne era molto fiero e le raccoglieva come ha detto anche Chiara e questo qui è un punto interessante perché potrebbe anche darsi allora e naturalmente scusate mi sono dimenticato di dire che non esiste un archivio neanche dei fratelli Bocca e ho parlato con loro ma mi hanno confermato che non esiste potrebbe anche darsi che questa sia un'edizione illegale e cioè che i fratelli Bocca abbiano in qualche modo aggirato Zanichelli ma io non ci credo io penso che sia più probabile che Zanichelli eh non ce l'abbia fatta con i soldi e quindi si sia appoggiato ai fratelli Bocca per farsi ehm aiutare eh nella stampa quindi eh la notizia no ufficialmente non sappiamo che ci siano state edizioni illegali però c'è un dato interessante quando Canestrini riprende in mano l'origine stavolta la versione definitiva del 1861 la settima edizione la sesta edizione scusate 1871 sono sbagliato e la traduce in italiano ma stavolta la traduce per la UTET e scrive a Darwin ho cambiato editore a causa del comportamento scorretto dell'editore Zanichelli e noi non sappiamo naturalmente perché l'abbia detto però eh lo dice ecco secondo me Marco quello che tu hai raccontato alla fine eh quando dicevi di cosa ha pubblicato Zanichelli dopo secondo me quello può avere eh sicuramente Canestrini non era contento di continuare a pubblicare tutte le altre opere di Darwin che invece appunto sono dopo tutte ehm pubblicate ehm io ho una domanda diciamo da parte mia ehm che può sembrare provocatoria ma non lo vuole essere io vorrei chiedervi per perché credo che sia importante parlarne qual è secondo voi il senso di ripubblicare la prima edizione italiana oggi eh ora che Darwin comunque è sempre più riconosciuto nella nella comunità scientifica ma spesso attaccato dai non scienziati qual è il messaggio secondo voi che ci può dare la prima traduzione italiana della eh terza edizione inglese dell'origine delle specie di la tua Chiara poi io dico la mia ne stavamo parlando anche prima della dell'inizio della diretta ehm parlando del fatto che in realtà ehm di un altro libro l'origine dell'uomo non c'è una un'altra traduzione oltre alla prima che è stata fatta e dicevamo come si uno appunto penserebbe che dei libri così importanti eh uno vuole andare a tradurli allora secondo me sicuramente ovviamente c'è il valore storico perché ehm c'è fondamentale c'è scopri abbiamo scoperto un sacco di eh di cose basta sulla nostra lingua su come la lingua scientifica la lingua italiana appunto è evoluta eh anche ehm nell'uso come spieghiamo le cose e poi appunto il fatto che questa ehm rispetto alla l'ultima ehm edizione è diversa comunque come la prima come in tutte le lingue perché Darwin comunque dalla prima alla sesta edizione continua a cambiare il libro evolve quindi fa parte di quel marasma di di edizioni perché tutte le varie edizioni in tutte le lingue vedono questa evoluzione ed è un po' l'evoluzione della lingua ma è anche l'evoluzione del pensiero di Darwin perché tutte le edizioni sono arricchite di nuovi esempi o di ehm di puntualizzazioni che qualcuno aveva fatto a Darwin a seguito di un'edizione precedente e lui puntualmente andava a approfondire e poi le eh inseriva quindi se uno vuole confrontare l'ultima ehm la più recente diciamo edizione della della sesta traduzione italiana rispetto a questa prima uno vede questi cambiamenti li vedi li vedi davvero sono d'accordo non ho niente da aggiungere però era interessante quello che dicevi sull'origine dell'uomo che secondo me è una riflessione se ti va di ripeterla perché ehm visto soprattutto che come ricordavamo quest'anno fra pochi giorni c'è l'anniversario appunto della pubblicazione di quest'altro libro importante non sono sicurissimo che non esista un'edizione successiva alla traduzione ottocentesca ma di sicuro non c'è una traduzione contemporanea ecco e e vabbè e anche di di altri libri per dire le variazioni degli animali e delle piante allo stato domestico l'abbiamo ritradotto in italiano e l'unica eh traduzione esistente era quella originale ottocentesca io mi sono molto divertito ritraducendolo quando beccavo il traduttore ottocentesco in castagna ah ti ho preso allora su su youtube ci chiedono come mai che Ernestini scelse l'edizione francese come punto di partenza invece dell'edizione tedesca di Bronna? Ah urca questa è una domanda di uno che sa e io non ne so nulla perché non so il tedesco ma mi pare di avere letto da qualche parte che anche l'edizione tedesca fosse eh fuorviante rispetto a quella inglese quella francese ha un po' influenzato le tutte le prime edizioni perché fu ehm cioè come questa italiana eh però appunto è interessante eh anche che ehm ovviamente non abbiamo lettere non abbiamo documenti su questo libro eh nello specifico eh però per altri libri più avanti ci sono nelle lettere eh di famiglia non solo quelle di Darwin ci sono menzioni di traduzioni italiane di altri libri in cui eh sia Emma la moglie che eh Rietta la figlia di Darwin menzionano che stanno lavorando sulle bozze stanno rivedendo rileggendo le bozze delle edizioni italiane di delle traduzioni delle traduzioni del padre dei libri del padre perché entrambe eh invece conoscevano l'italiano però di questa prima non sappiamo quella lettera di Emma che parla del del della commissione che gli hanno dato il permesso di tradurre è l'unica di questa prima traduzione è un peccato appunto che non non ci sia noi eh le lettere per ricostruire eh tracciare insomma le le linee fra i traduttori gli editori e poi possibili eh revisioni da parte della famiglia e di Darwin stesso. Ecco una cosa interessante che mi sono dimenticato di dire e che secondo me è sconvolgente che dopo la pubblicazione della traduzione della sesta edizione da parte di Canestrini e dunque nel 71 e non succede più niente fino al 1959 cioè dal 1871 al 1959 continuano a ristampare l'elezione naturale. È incredibile ma è così al punto che c'è qualcuno che si è preso la briga di scriverci un libro su questo argomento. Gli umanisti a volte fanno queste cose. Allora su su YouTube ci dicono Marco Pizzi che la eh dice penso la più recente della selezione sessuale dell'origine dell'uomo degli anni settanta Newton Compton e comunque è molto datata. Invece ci chiede eh Giulia Bernardini quant'era diverso il panorama scientifico nel 1859 relativo alla zoologia rispetto a quello inglese quindi in Italia? Non 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 lo so non credo di essere in grado di rispondere a questa domanda. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che in realtà c'erano un sacco di naturalisti italiani che erano in gambissima e conosciuti nel mondo per dire Darwin corrisponde lungamente con Del Pino che era un botanico di Bologna. Si scrivono così tante lettere che è uscito addirittura un un libro per per raccoglierle. Direi che era molto più avanti allora in naturalisti italiani di quanti quanto ahimè non lo siano stati dopo. Per esempio non dimentichiamoci che la stazione zoologica di Napoli è stato il posto al mondo dove si è costruita la zoologia fra il 1850 e il 1900. Tutti quelli che potevano venivano a lavorare a Napoli. Non so perché poi sia. Anche io non so dare una risposta completa però sicuramente studiando la corrispondenza di Darwin ci sono tantissime lettere con persone personaggi italiani con Canestrini persone che sono anche citate poi nelle opere di Darwin quindi Canestrini poi c'è appunto Anton Dorn che appunto Marco adesso citava che anche però con Darwin si scriveva in tedesco e alcune delle lettere sono io avevo aiutato con la traduzione molto tempo fa alcune sono in italiano però ci sono anche delle parti delle lettere in tedesco ed era insomma una situazione un po' interessante però ci sono corrispondenze e una cosa da sottolineare che guardando a chi scriveva Darwin in quel periodo non c'erano solo gli italiani ma c'erano personaggi di tutto il mondo e non solo accademici o ricercatori ma chiunque avesse letto l'origine delle specie poteva prendere penna e scrivere a Darwin e Darwin ha ricevuto un sacco di queste lettere di gente che magari era appassionata di era un naturalista di campagna gli scriveva ma io questa cosa non sono d'accordo eccetera e spesso rispondeva spesso facevano anche osservazioni interessanti e ci sono tante lettere anche da parte di accademie italiane che onorano Darwin con queste rendendolo membro onorario a distanza quindi l'accademia dei lincei ce ne sono tante ricordo che appunto tanti anni fa oramai ero andata a vedere nell'archivio qui a Cambridge ci sono tantissime lettere che accompagnano questi questi diplomi o queste pergamene che nominano Darwin membro onorario delle varie associazioni italiane e poi ci sono anche delle lettere di condoglianze alla moglie dopo la morte di Darwin e ce n'è una che è la mia preferita che viene da Milano ed è appunto da in cui da a nome insomma della del museo di Milano si fanno le condoglianze alla signora Darwin e nella lettera si scrive che Darwin era il Galileo delle scienze naturali lo descrivono così che è sempre stata una una definizione che mi piace tantissimo perché ovviamente era volevano onorarlo e la lettera è in italiano perché comunque ma l'italiano lo leggeva lo sapeva adesso vi faccio una domanda io perché conosco un pochino la storia che c'è dietro e mi piacerebbe che la raccontaste allora la copertina del vostro libro del libro che avete curato secondo me è bellissima e ha però perché nell'origine delle specie noi abbiamo dei fiori e una farfalla come avete scelto questa immagine qual è la storia che nasconde che però ha copiato una scelta che avevo fatto io anni prima assolutamente sì allora nella Marco che anno era quando era uscito il libro il libro della traduzione italiana libro di Ridley quindi il manuale manuale non ho qui una copia Marco magari la recuperi per fare vedere prende sulla copertina di questo libro mentre Marco vedi la vedi il bello di essere a casa che può andare a prendere no ma se lui prende il libro del Ridley è a in copertina la stessa immagine quindi l'orchidea quella che si chiama l'orchidea di darwin e la falena la falena di darwin siccome nella nella mia prefazione eccolo va più indietro ecco libro lì siccome nella mia prefazione come dicevo all'inizio io mi mi occupo della degli esperimenti botanici darwin e delle delle sue riflessioni osservazioni con anche le orchidee c'era sembrato bello appunto scegliere un'immagine che rappresentasse questo poi appunto era molto è un disegno molto bello e quella appunto la storia la storia dell'orchidea di darwin è appunto legata a una famosa predizione che darwin fece perché lui aveva avuto modo di vedere questa orchidea che è un'orchidea che è originaria del madagascar se non sbaglio e lui l'aveva vista nei giardini di kiw garden ed era poi stato se ne era fatta mandare se ne era fatta mandare delle piante a casa quindi nelle sterre di down house aveva questa questa orchidea e lui però osservando la forma del fiore fece la previsione di quale insetto qua in natura quindi madagascar sarebbe stato l'impollinatore di questo di questo fiore quindi osservando la morfologia del fiore lui predisse che in natura ci sarebbe stato un insetto di qualche tipo che una falena con una con una protuberanza una proboscide che era lunga tanto da da poter impollinare questa falena e questa la falena per tantissimi anni non rimase una predizione incompiuta fino mi sembra l'ultima descrizione la descrizione ufficiale degli anni 90 del 1990 se non sbaglio e questa falena si chiama xantopan morgani predicta proprio perché appunto viene da questa predizione di darwin e ed è una storia molto bella per punto il potere della teoria di darwin non è solo di guardare al passato osservare e spiegare ma è anche quello di predire di poter spiegare le cose e poter fare previsioni dalle cose che vediamo ma che ancora non sappiamo ecco questa è una cosa molto potente per una teoria so se marco vuole aggiungere qualcosa però si ci piaceva molto la copertina con la con l'orchidea ci siamo abbiamo ci sono state poche poche prove poi ci siamo subito fissati su questa opzione su youtube ci dicono che marco pizzi leggendo il diario di cosima wagner ha detto che anche wagner l'essere origine delle specie e nel diario se ne accenna un paio di volte quindi piccola curiosità oggi in realtà oggi non sarebbe il darwin day come abbiamo detto prima oggi è il la giornata oggi è l'undici di febbraio darwin dei serbi il dodici oggi però la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza e a me è piaciuto il fatto che soprattutto chiara ma anche marco hanno citato più volte delle donne al contorno di darwin principalmente emma la moglie e poi in rietta la figlia e questo è un messaggio importante che sono contenta che chiare chiara sia qui perché è quello di cui ci ha fatto l'annozzo perché chiara ha scritto questo libro sua ma per cui darwin la moglie nonché cugina di charles e credo che oggi sia il giorno giusto per ricordare che le donne hanno avuto un impatto importante nella scienza come si dice di emma in questo libro nei confronti del marito charles anche quando non erano in prima persona e quando il loro nome non è stato necessariamente ha portato avanti in termini personali e quindi volevo chiedere a chiara di se se oggi in questo giorno vuole raccontarci in qualche parola quale è stato l'impatto di emma sul lavoro scientifico di darwin nello specifico ovviamente visto che stiamo parlando di questo sull'origine delle specie sì ma cerco sarò breve no interessante questa cosa perché quando in realtà a parte emma ovviamente la figura di cui adesso punto magari diciamo qualcosa quando quando parliamo di darwin e le donne darwin era un uomo del suo tempo giusto marco non è che fosse lui per quanto avesse una donna a suo fianco e che poi lo io lo anche con la figlia si fece aiutare in un certo senso non era un uomo moderno come possiamo dire come dire oggi tanto che ci sono tantissime citazioni che uno può andare a vedere nei suoi scritti che sono tipiche di un uomo di metà nel 1800 in cui punto la donna era vista comunque come una figura non a pari dell'uomo e ci sono fra i vari corrispondenti adesso arrivo a parlare di emma ma una le una signora americana che corrispondeva con darwin gli scrisse per rispondere alle sue affermazioni per cui le donne non erano al pari degli uomini questa signora gli diceva dateci le stesse opportunità e poi ne riparliamo ecco perché ovviamente questo era quello che non veniva considerato però venendo venendo a emma allora emma e charles appunto erano cugini si conoscevano da tutta la vita e mentre charles andava a studiare diventava lo scienziato che lui era anche lei fece una vita molto molto interessante lei era appunto una wedge quindi una parte di questa famiglia molto è illuminata e che faceva a studiare viaggiare le donne come appunto faceva coi figli maschi emma venne anche in italia fare il grand tour e altre parti d'europa e verso quando avevano trent'anni si sono un po riavvicinati e finalmente invece di essere solo cugini si sono poi charles si propose e si sposarono nel gennaio del 3839 e poi vissero felici e contenti ebbero dieci figli eccetera durante questo questa vita però ci sono la cosa forse più nota da chi non conosce bene il personaggio è che emma era una donna religiosa e spesso questa cosa viene citata come una un problema fra i due e che avesse creato qualche insomma fosse stata a causa di alcuni problemi fai due soprattutto che lei lo avesse frenato in qualche modo nel suo lavoro scientifico in realtà da quello che da quelle che sono le prove storiche dalle lettere che abbiamo non ci sono non ci sono evidenze che lei lo abbia mai rallentato anzi lei è sempre stata una persona lei era di fede unitariana quindi una razionalista era stata educata seguendo comunque il pensiero scientifico era era improbabile che lei lo fermasse ovviamente non era contenta magari di vedere vederlo parlare soprattutto quando si arrivò all'origine dell'uomo a parlare di queste di queste idee che sicuramente nella nella società inglese non erano proprio quelle che lei avrebbe voluto però sicuramente sapeva che lui agiva in in buona fede per quanto riguarda la il suo aiuto e diciamo con con alcune delle traduzioni è sicuramente non è a livello del dell'aiuto che il figlio francesi e altri ehm lo fecero perché erano francesi di fatto era praticamente il segretario del padre lo aveva classificato tutte tutte le sue lavori lo ha rivisto tutte le opere anche dopo appunto prende dopo la morte di darwin prende in carica un po tutto però sicuramente emma eh aiutava quando poteva era comunque una che manteneva avanti una casa con quasi appunto sette figli che perché tre appunto morirono poi in in giovane età era comunque una donna abbastanza occupata però quando poteva eh aiutava ci sono diverse lettere che eh scritte da Emma ci sono ehm che Charles magari le diceva di scrivere come quella che Marco ha citato ehm verso il suo editore e poi ci sono anche tante ehm tante volte dove si vede le sue eh note a margine in matita sulle bozze di alcune delle opere di darwin per esempio le le primissime bozze eh delle delle idee evoluzioniste quindi di darwin quindi quelle molto prima parliamo di quindici anni prima che lui scrisse pubblicò l'origine delle specie ai bordi si vedono le note di Emma quindi lei è sicuramente l'unica persona che per tantissimi anni era conoscenza delle delle idee del marito ecco mi fermo perché potrei andare avanti a parlare magari in una in una prossima occasione però questa cosa delle donne della corrispondenza fra darwin e le donne è molto interessante per chi legge l'inglese se andate sul sito del darwin correspondence project cioè ci sono varie selezioni tematiche di alcune ehm di curate diciamo delle lettere di darwin e ce n'è una specifica su darwin e le donne eh dove appunto curano eh e raccontano eh di alcune corrispondenti eh di darwin ehm non solo in Europa ma anche in giro per il mondo tipo questa signora che dicevo in America allora eh mi dicono su youtube che ora le isole Cocos Killing dove Darwin è stato con il Beagle sono è l'una e trentotto di mattina il fuso è frazionario e quindi staranno già festeggiando il Darwin Day allora io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato e per aver festeggiato con noi il Darwin Day eh rinnovo gli auguri a Chiara e a tutte le donne e le ragazze eh nella scienza che ci seguono per questo undici febbraio e ringrazio Chiara e Marco per le presentazioni bellissime avete ricevuto un sacco di complimenti su youtube ora non ho letto tutti i commenti di complimenti ho letto solo le domande ma siete stati bravissimi e molto interessanti è stato un piacere e un onore per per me e per noi di Aerie Cambridge avervi con noi e buona serata a tutti grazie grazie mille a voi grazie buona serata